La Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino, su disposizione del Tribunale, ha eseguito la confisca di quote di proprietà di sei fabbricati, sette terreni e saldi nei conti correnti, per un totale di circa 353 mila euro nella disponibilità di un imprenditore edile sessantenne della zona dell'Urbinate, condannato per evasione fiscale. L'indagato, infatti, aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2011. Dopo una verifica fiscale effettuata dalla Compagnia di Urbino alla ditta, situata da Pecchio, di cui l'uomo è titolare, i finanzieri hanno rilevato imposte e vase superiori alle soglie previste dalla normativa penale ed hanno informato la Procura della Repubblica per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni. Le indagini, condotte dall'autorità giudiziaria, hanno portato l'imprenditore alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Urbino e dall'emissione di un decreto di confisca di denaro e beni, fino alla concorrenza dell'importo dell'evasione fiscale. La Guardia di Finanza, infine, ha svolto le indagini per individuare le concrete attuali disponibilità economiche dell'uomo tramite accertamenti patrimoniali. Questo ha permesso non solo di individuare e confiscare tutti i conti correnti presentanti saldi attivi, ma anche di risalire alle numerose possidenze immobiliari dell'uomo, consentendo di recuperare gli importi oggetto di evasione.